è una società che comunque seguo conosciuto negli anni è cresciuta tanto quindi si è si è mostrata ed è arrivata al calcio che 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 conta e quindi si è si è fatta si è fatta conoscere nel migliore di modi la conoscevo perché ho avuto anche diversi compagni che hanno già giocato qui mi sono anche informato prima di prima di venire perché è sempre un piacere ho ricevuto sempre tanti tanti commenti positivi come società seria organizzata e soprattutto che vuole fare le cose fatte per bene con programmazione con intelligenza e penso che questo nel mondo del calcio nel calcio fa faccia la differenza quindi è stata la motivazione principale che che mi ha spinto qui anzitutto questo fa capire la serietà del progetto che dopo non pochi anni come detto tutta la fondazione è riuscito già a raggiungere un campionato così importante e quello che posso portare io è sicuramente un pizzico di esperienza perché ho avuto la fortuna di poter fare questo campionato tante volte ho avuto anche la fortuna di giocare anche in serie a e quindi sicuramente un po di esperienza e un po di ossa me le sono fatte e cercherò di portare a questo gruppo sicuramente un po anche di di piccoli di piccoli dettagli che possono fare la differenza e affrontare un campionato della serie b l'ho riprovato lo scorso anno è veramente difficile perché è un campionato molto ma molto competitivo e però credo che la squadra che arriva da un campionato vinto come la serie c che non è un campionato banale abbiamo visto tante squadre soffrire per poter vincere un campionato vuol dire che ha già qualcosa di importante che tutti mi parlano di parlo della forza del gruppo che ha vinto questo quest'ultimo campionato e quindi sarà importante semplicemente riportarla nel in serie b perché il gruppo come in tutti i campionati farà differenza e cercare magari di mettere dentro qualche qualche qualcosa o qualcuno che possa veramente dare quel pizzico in più a una base di già importante che c'è no assolutamente la famiglia è sempre stata la la mia forza mi ha sempre mi ha sempre seguito mi ha sempre supportato nonostante come detto mio padre amante sfegatato del calcio ho fatto a giocava calcio seppur a livelli inferiori però ho dovuto smettere da giovane perché ha avuto un brutto infortunio ha seduto operare al pancras e quindi ha dovuto smettere e per quel motivo si era dato al tennis quindi inizialmente anche a me mi aveva approcciato al tennis da molto piccolo però ha avuto la sfortuna che il campo da tennis era vicino al campo da calcio e io passando lì tutti i giorni vedevo tanti miei amichetti che giocavano a calcio la mia passione era quella e quindi mi sono chiesto insistentemente mio padre di farmi giocare a calcio e poi mi sono avviato ma lui mi ha seguito veramente sempre fin da piccolo portandomi tutti i vari campetti di periferia sempre con tanta passione sempre dandovi mille consigli e mille consigli che mi porto dietro tutt'oggi ed è stato fondamentale lui come mia mamma perché è veramente un pilastro io rifinisco il pilastro della famiglia perché ci ha cresciuti faccio una piccola parentesi miele sono separati abbiamo cresciuto ma abbiamo sempre avuto fortunatamente un bel rapporto con entrambi e ritengo che ecco questa quest'unità questo spirito di famiglia se si riesce a riportare tutti insieme anche nel campo da calcio nel gruppo nello spogliatoio sicuramente sono sono quelle cose che possono possono aiutare è stato anche fondamentale nella scelta perché non è solo un ex compagno ma è uno dei miei migliori amici quindi avevamo formato un grandissimo bel rapporto un bel gruppo a cagliari ci siamo sempre frequentati e sentiti costantemente in tutti questi anni quindi quando ho avuto la possibilità di venire qua sapevo della della sua presenza per me è stato veramente un motivo veramente grande per per ritrovare l'amico nel tornare a giocarci insieme per me è veramente una grande felicità non lo nascondo e mi ha veramente è stato uno di quelli che mi ha parlato molto bene di questa società di questo gruppo di come si lavora e mi ha convinto in fondo ad accettare questo progetto assolutamente ho avuto il piacere di conoscerlo sia calcisticamente parlando che è anche fuori dal campo prima di venire qui è è stato una persona che la prima persona che mi ha accolto che mi ha fatto subito capire dove dove fossi anche l'ambiente in certo senso familiare dove mi trovavo mi è molto piaciuto e è una presenza appena appena lasciato lo spogliato io per calarsi in un altro ruolo ma sicuramente riuscirà grazie alla sua vicinanza con tutti i ragazzi a a tenere veramente ben saldo il il rapporto tra quello che è la squadra e la dirigenza e questo penso che sia un ruolo molto importante mi piace sia il tennis che il padre il padre è nato nata un pochino più giovane come passione però però è molto divertente quindi quando posso soprattutto d'estate ecco che magari riusciamo a diciamo a lasciare un pochino il campo da calcio mi piace sempre spostarmi su quello di tennis piuttosto che di padre perché è veramente una passione che che mi porto dietro da un po da sempre quella con la racchetta non sono così forte però mi cimento e do sempre do sempre il massimo perché mi piace molto il consiglio che posso dare è di di crederci ma crederci davvero nel senso che è quello che mi ha spinto veramente e forse mi ha portato ad arrivare a giocare a calcio è stato che fin da piccolo avevo un obiettivo però l'ho sempre vissuto con la giusta umiltà nel senso detto non può essere il mio unico e solo obiettivo perché sappiamo in quanti pochi ci si riesca e di conseguenza ho sempre portato avanti anche tutto il percorso di studi fino fino a iniziare l'università poi sono arrivato ad un bivio ovviamente ero in un bivio quando avevo 19 anni ho avuto la fortuna di fare tutto il percorso a Perugia che era la mia città e quindi ho potuto portare avanti sia il calcio che lo studio poi ho provato a seguire la carriera del calciatore dicendomi veramente ovviamente tra meme ok ci provo però non ho mai smesso di pensare al fatto che volevo portare avanti anche percorso di studi all'inizio non è stato facile poi fortunatamente la carriera del calciatore ha preso la piega giusta ma quello che è il mio consiglio è cercare sempre di però ecco quello che volevo dire gli studi mi hanno sicuramente dato manforte anche nel calcio perché io penso che sia ti dà anche un certo senso di disciplina che poi ti porti dentro al campo quindi quello che posso consigliare è di portare avanti sempre entrambe entrambe le strade poi vedere dove si porta con determinazione ma anche umiltà parto dal territorio che è un territorio splendido ci ero venuto da piccolo e non ci tornavo da tempo e ho avuto il piacere in questi giorni di riammirarlo è veramente fantastico quello che può essere il derby col Brescia sicuramente ci auguriamo per noi perché sicuramente è una partita importante ma anche per tutto il territorio potrebbe creare veramente un seguito un appeal per tutti e quindi ci auguriamo di poterla di poterla disputare e ci sarà nel caso grande grande fervore carica per poterla poterlo giocare il mio messaggio è che sicuramente darò il massimo sono sicuro che daremo tutti il massimo per fare un campionato e onorare i leoni del Garda il più possibile e al meglio possibile